5.000 posti di lavoro andati in fumo nel 2020 nel terziario in Friuli Venezia Giulia, il comparto maggiormente penalizzato dalla pandemia. Altri 40.000 lavoratori erano stati considerati a rischio a inizio 2021, ma fortunatamente i livelli occupazionali hanno tenuto nel corso di quest'anno. Sono alcuni dei dati emersi da un'indagine sugli effetti dell'emergenza Covid in regione, commissionata dagli enti bilaterali del terziario a Format Research e Ires FWG, che insieme curano l'osservatorio congiunturale sull'occupazione. Noi abbiamo fotografato sia il periodo pre-Covid sia quello post-Covid con delle interessanti prospettive che speriamo vengano confermate in questi prossimi mesi. Diciamo che per quanto riguarda il 2020 c'è stata una perdita di circa 5.000 unità nel terziario, visto che stiamo focalizzandoci sui servizi. I dati che abbiamo invece per i prossimi mesi ci dicono che c'è una ripresa sia in termini di nuove assunzioni sia in termini di nuove imprese dopo un anno veramente difficile come il 2020. Massiccio il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga nel 2020 dalle imprese del terziario, soprattutto nel commercio penalizzato dal crescente ricorso agli acquisti online da parte dei consumatori, ma anche nel turismo e in altri comparti. Secondo l'indagine, 4 imprese su 10 hanno fatto ricorso allo smart working per i dipendenti. Priorità della regione è accompagnare le imprese ai lavoratori di questi settori nelle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. La responsabilità che l'amministrazione regionale si assume è sicuramente quella di attivare tutti i percorsi di formazione necessaria. Alle imprese da parte della regione chiediamo ovviamente un supporto nelle assunzioni di qualità, perché il dato preoccupante di questo periodo all'interno del mondo del lavoro e che aumentano a dismisura i contratti a tempo determinato.